è la fine di facebook ciao ragazzi ben ritrovati qui sul mio canale abbiamo visto tutti quanti quello che è accaduto in termini borsistici quindi uscita della trimestrale dell'azienda di zuckerberg e poi il giorno dopo in borsa o meno 20 25 per cento quindi la società a fronte di un dato che ha visto meno 450 milioni in termini di utili previsti pertanto cosa significa che ha guadagnato miliardi e miliardi ma sono mancati rispetto a quelli che dovevano entrare secondo gli analisti 450 milioni e a dispetto di tutto quanto questo la società ha perso in borsa una capitalizzazione di 190 miliardi mi sembra che ci sia una sproporzione è normale che il mercato si porti avanti e che quindi magari veda un po l'azienda in difficoltà e quindi decida che debba scontare dei multipli quindi delle valutazioni più basse rispetto a quelle precedenti e in ogni caso il mercato secondo me rimane sempre una delle massime rappresentazioni dell'emotività umana che tende a estremizzare qualunque situazione nel breve e nel medio termine io ora mi metto a schermo sul computer così andiamo ad effettuare un po un'analisi e vederò la mia se secondo me facebook è finita cosa ne penso della piattaforma meta meta platforms e se ci sto investendo se ho intenzione di farlo oppure no ovviamente tutto quanto non rappresenta un consiglio finanziario è solo un qualcosa di soggettivo che voglio condividere con voi ecco il grafico a cinque anni di facebook ovvero meta platforms mi viene in mente un'analogia con altri due titoli quando parliamo di persone che prevedono la fine e la distruzione di un'azienda è chiaro che ogni società poi ha la sua storia quindi il paragone ha dei limiti però rammento le dichiarazioni del passato come ad esempio ad oggi si sostiene come che facebook sia un'azienda ormai sull'inizio no sull'urlo del tramonto si asserivano medesime cose anche anzi anche peggiori su tesla qui nel 2018 è un'azienda truffa in on mask è uno scam questa azienda non genererà mai utili le tesla sono troppo costose roba da ricconi non ne produrranno mai più di tanto eccetera eccetera ma anche su apple molti hanno la memoria corta io rammento qui alla fine del 2018 che alcuni sostenevano come ormai fosse un'azienda matura l'iphone non lo vuole più nessuno ce lo hanno tutti esistono prodotti molto competitivi più economici e così via salvo poi pochi mesi dopo rimangiarsi tutto quanto queste persone sono scomparse tali asserzioni emergono nei momenti in cui un titolo in borsa crolla perché è veramente facile cavalcare quell'onda e semplicemente collegarsi a quello che è il sentimento negativo da parte degli investitori ma spostiamoci possiamo riassumere con queste due voci poi andiamo a vederne altre nello specifico quello che è successo a livello di earnings su facebook è chiaro che tutto il mercato si è andato a concentrare sulla parte degli utili e non del fatturato ad esempio quest'ultima ci fa notare una crescita dello stesso e addirittura un più 20 per cento anno su anno che è veramente spaventoso in termini di fatturato per un'azienda che veniva già da una grande accelerazione dovuta al periodo pandemico e soprattutto ormai a maturazione di fatti tutti gli utenti che sono disposti diciamo a smanettare sui social già sono iscritti alle piattaforme meta quindi vari instagram whatsapp facebook cioè il mondo ricordiamocelo ha un problema ovvero esiste solo un pianeta con un numero finito di esseri umani sembra quasi che qualcuno se lo scordi sia il problema che un'azienda ha conquistato tutto il mondo va fate voi è chiaro non possiamo più aspettarci le crescite di una volta però poi adesso andiamo a contestualizzare il tutto vi è stato però un dato che ha dell'uso gli analisti ovvero hanno missato no se vogliamo prendere questo termine italianizzarlo come si dice quindi mancato 0.16 dollari di utile per azione ricordiamoci che negli analisti non ci prendono mai perché il futuro ovviamente è incerto è normale che ci si può andare più o meno vicini su una previsione questa volta il fatturato è stato un po' più alto gli utili sono stati un po' più bassi secondo me ci troviamo in una situazione in un contesto di mercato di estremo nervosismo quindi ogni piccolo problema si ingigantisce prendiamo un neo e lo estendiamo fino ad essere un buco nero che divora tutto questo è quello che sto pensando ha ragione diciamo su alcuni titoli perché era tutto estremamente sopravvalutato il mercato nazionale era andato to the moon è giusto che ora ritorni sulla terra che vada ad atterrare solo che molti atterraggi quasi tutti siccome sono diciamo dominati non dalla scienza e dalla tecnica non so missilistica o spaziale bensì dalle emozioni umane sono tutti atterraggi con schianto poi per carità ci si andrà a risollevare e quindi dobbiamo andare a cercare di capire quali sono quelle aziende che hanno questa opportunità ora se andiamo a vedere nello specifico alcune tematiche qui degli utili che ci hanno rilasciato quindi alcuni dati notiamo come il fatturato sia in costante crescita in tutte le zone del mondo siamo passati da 20 miliardi all'ultimo trimestre del 2019 all'ultimo di quest'anno quindi in due anni a 32 miliardi è tantissimo per una mega cap come facebook ovviamente poi ci sono i vari segmenti quello che notiamo è che tutto quanto derivi effettivamente in termini di fatturato e utili dalla pubblicità su facebook poi ci sono altri comparti ma per ora sono irrilevanti o meglio sono rilevanti invece soprattutto quello della realtà virtuale per quanto riguarda le spese quindi poi ci arriveremo questo non è stato il trimestre con maggiori utili per facebook sicuramente è stato uno dei più importanti d'altro l'azienda è cresciuta inferiore rispetto all'ultimo trimestre del 2020 quindi rispetto a un anno fa quindi rispetto a un anno fa è aumentato tanto il fatturato in termini percentuali ma è diminuito l'utile e poi ci arriviamo ecco qui ad esempio il perché è molto intuitivo guardiamo il capital expenditures quindi notiamo come questa azienda stia spendendo sempre di più per il mantenimento delle proprie attività ma è un qualcosa che in realtà a me piace perché io voglio vedere un'azienda che si mette in gioco e cerca di innovarsi cerca di creare un nuovo mondo a me piace che stia insistendo sul metaverso è chiaro è rischioso c'è il rovescio della medaglia ma devono tentare perché se rimanessero con questo modello di business per quanto era profittevole fra 10 anni veramente sarebbe finita facebook il mondo va avanti sempre più velocemente avrebbe potuto farlo in maniera diversa avrebbe potuto dichiararlo di meno avrebbe potuto giocarci un po' di più un po' di meno fate voi però non vedere un'azienda che ha una visione che investe miliardi quando ha liquidità infinita è giusto mi piace stanno tentando secondo me la cosa migliore poi non è detto ovviamente che riesca ma è solo così è il mio parere soggettivo che si danno in realtà la possibilità di rimanere una grande azienda quindi gli investimenti fatti con un criterio che può portare un meno risultato non sono soldi buttati sarei più spaventato se questa società stesse firma e immobile come investitore ma io spesso e volentieri la penso al contrario della massa e vediamo un po' qui la crescita in realtà ci è stata su tutto il numero di utenti totali diciamo che vanno un po' ad utilizzare i vari facebook, instagram, messenger, whatsapp eccetera eccetera quello che in realtà non è piaciuto è stato un declino proprio della piattaforma facebook quindi le altre diciamo si sostengono e da 1.930.000.000 siamo passati a 1.929.000.000 quindi vi è stato un calo di un milione di utenti e questa è stata percepita come la fine niente facebook praticamente ha chiuso non esiste più signori se domani voi lo aprite non niente nemmeno si collega più questa è stata la reazione del mercato praticamente hanno bandito il social facebook nella piattaforma meta nessuno lo vuole più utilizzare è chiaro che spavento un cambiamento di trend perché non si era mai visto ho fondato facebook ormai quasi 15 anni fa circa più o meno è sempre cresciuto ormai raggiunto tutto quanto il pianeta può essere visto anche un po' come stantivo un po' come noioso alla fine ha fatto bene poi ad acquisire whatsapp, instagram a collegare il tutto infatti hanno una visione che non sono stati i soldi buttati in quell'occasione se noi non sono buttati nemmeno per il metaverso e poi dipende dalle aree ovviamente ad esempio in europa è continuata a crescere magari è stata invece una contrazione di un milione di unità fra stati uniti e canada quello che poi noi andiamo a notare fra media del fatturato utili eccetera senza nemmeno adesso andare a scorrere tutto è che ogni utente ad oggi rende come non mai a facebook cioè la resa per un utente meglio in termini di fatturato di utile è aumentata in maniera significativa quindi rendono sempre di più in quanto le aziende e i privati e chiunque voglia farsi pubblicità ovviamente va in una guerra dei prezzi per questa piattaforma è chiaro che prima o poi questo andrà magari a diminuire a scemare a calmarsi c'è un limite a questa guerra però quando un'azienda deve fare pubblicità online sicuramente prende subito in considerazione facebook è uno di quei social super utilizzati che connette tutto quanto il mondo e che permette anche di andare a targettizzare gli utenti c'è stato un problema e negli ultimi tempi che poi riguarda poi chiunque voglia andare a fare una targettizzazione dei potenziali clienti ossia tutto ciò che è legato alla privacy del sistema iOS di Apple quindi è più difficile accedere a determinati dati e quindi è chiaro che il target riesce di meno bisogna prenderlo in considerazione ma poi nei prossimi trimestri questa cosa ormai sarà scontata e quindi non sarà più un'incognita vedremo quello che effettivamente sarà accaduto altra cosa che vado a notare leggendo ovviamente tutti quanti qua i report dei loro utili o meglio dei loro bilanci dei loro earnings eccetera eccetera è una società piena di cash proprio che i soldi escono tutte quante le parti quindi secondo me va bene investirne una parte in qualcosa di innovativo che secondo me sarà inevitabile la realtà virtuale inoltre qua mi sono segnato come siano sparite 90 milioni di azioni se le sono comprate è un'azienda che fa buyback e ricordiamocelo che loro premiano tanto gli azionisti quando fanno buyback perché se ci sono meno azioni in circolazione anche a parità di utili l'utile per azione è normale che aumenta perché le azioni sono di meno gli EPS aumentano quindi vanno a premiare l'azionista come se fosse un dividendo ma in realtà rimane all'interno del suo investimento non ci paga neanche la tassazione è come se fosse rinvestito in un certo senso quindi il buyback è veramente un premio per gli investitori anche un premio a se stessi nel momento in cui magari si vanno a ricomprare le azioni dopo un crollo lo hanno fatto adesso prima che raggiungesse questi prezzi e se fossi loro prossimamente se si mantenesse questi a livello insomma me ne comprare altre ecco un altro magari qualche altra decina di milioni di azioni a 250 dollari o magari di meno vedremo quello che sarà insomma circa questi prezzi dopo questo grande crollo me le metterei in pancia andiamo a vedere un po' quelle che sono le previsioni degli analisti le loro valutazioni con la linea nera andiamo a constatare quello che è il prezzo con la linea invece questa azzurra vi sono le previsioni degli analisti e la loro media diciamo da 0 a 18 mesi dove dovrebbe trovarsi il titolo a livello di quotazioni diciamo prossimamente più o meno da qui a circa un anno e vediamo come effettivamente poi raggiunga quel livello la linea nera adesso gli analisti si immaginano più o meno un rialzo di un 40 50% da qui a un anno un anno e mezzo vedremo se hanno ragione oppure no io quello che voglio farvi notare è che il pie di questa azienda è 16.95 per quanto riguarda Google ad esempio è 27.55 per quanto riguarda Apple è 30.75 è chiaro questa ha più beni fisici anche se ha tanti servizi magari Google è più legata alla pubblicità ogni azienda un po' unica e ripetibile però sono le grandi big quindi vediamo su quali multipli stanno viaggiando io credo che dentro questo pie ci sia proprio scontato qualunque problematica presente e futura per quanto riguarda Facebook rimane una delle aziende con più cash al mondo rimane una delle società con i migliori bilanci a livello globale è un'azienda che ha una visione futura ci sta scommettendo investendo miliardi quindi probabilmente più di chiunque altro vedremo se riuscirà a creare questa sorta di mondo parallelo magari non ci riuscirà magari sarà qualcun altro però è un qualcosa che a me sembra inevitabile che si dovrà affermare nei prossimi anni secondo me può valere l'occasione di mettersene in portafoglio e valutare se ne metto l'incremento è solo il mio parere soggettivo io ovviamente mi espongo e ci metto la faccia e vi dico il mio pensiero non rappresento un consiglio finanziario siate molto critici fate le vostre analisi mi raccomando altre volte sono più imparziale più da punto interrogativo fatemi sapere la vostra nei commenti secondo me come vi dicevo all'inizio del video vi è sempre l'esasperazione dei sentimenti umani misso 450 milioni di fatturato e la capitalizzazione fa meno 190 miliardi va bene che il mercato si porta avanti e va a scontare magari dei multipli più bassi credo ci sia un limite a tutto vedremo quello che accadrà nei prossimi giorni io vi ringrazio per l'attenzione se questo video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale per sostenermi è davvero importantissimo grazie mille buoni investimenti a tutti